Caggia Gioielli offre una vasta gamma di prodotti dalle ultime tendenze ai classici senza tempo. Orologi, argenteria, articoli da regalo, gioielleria. Caggia Gioielli è l'ideale per i vostri regali. Articoli di alta qualità abbinata a prezzi davvero convenienti. Le marche più rinomate per rendere speciali i vostri acquisti. Un'esperienza trentennale al servizio del cliente per far brillare i suoi sogni. Laboratorio di analisi gemmologica con gemmologo dell'Istituto Gemmologico Italiano. Certificazioni, analisi su pietre preziose e blister di diamanti. Caggia Gioielli vi augura buone feste e vi aspetta a Taranto in via Cavallotti 47.